Benvenuti nel mondo degli orologi Prim. Prim è un marchio di orologi cieco, noto per la produzione di orologi eleganti e di alta qualità a prezzi accessibili. Nel corso degli anni, il marchio ha acquisito una reputazione di eccellenza nella produzione di orologi di alta qualità, con un'attenzione particolare ai dettagli e alla cura nella produzione. I modelli di orologi Prim sono disponibili in diverse varianti di design elegante e classico, con cassa in acciaio inossidabile e cinturino in pelle, ma anche in altri materiali come il tessuto. Gli orologi sono dotati di movimenti al quarzo o automatici, a seconda del modello, in modo da soddisfare le diverse esigenze dei clienti. L'attenzione ai dettagli e alla qualità nella produzione degli orologi Prim è stata una costante fin dai primi anni di attività, quando il marchio produceva orologi principalmente per le forze armate e le ferrovie cecoslovacche. Nel corso degli anni, la produzione di orologi Prim si è evoluta, diventando sempre più orientata al mercato globale e ai gusti dei clienti di tutto il mondo. I modelli di orologi Prim sono caratterizzati da un design elegante e classico, ma anche da una tecnologia all'avanguardia, che assicura precisione e affidabilità nel tempo. L'estetica di questi segnatempo è classica ed elegante con cassa rotonda e quadrante pulito e minimale. Tra le varianti ci sono anche modelli più sportivi e dotati di svariati complicazioni. Il marchio Prim è noto per la produzione di orologi di alta qualità a prezzi accessibili, il che lo rende un'ottima scelta per chi cerca un orologio elegante e di qualità senza spendere una fortuna. Inoltre, la produzione di orologi Prim è orientata alla sostenibilità ambientale e alla produzione etica, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale della produzione di orologi. Prim è un marchio che merita di essere considerato da chi cerca un orologio elegante, di qualità e a un prezzo accessibile.